Weylats a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Andiamo a vedere subito la nostra situazione di classifica, situazione molto tranquilla in realtà perché siamo a metà classifica, vi ricordo che siamo abbondantemente salvi, non so se matematicamente o meno, adesso mi scoccio a fare i calcoli, ma considerando che la Cremonese terz'ultima è a 17 e noi siamo a 44, credo sì, credo nettamente che siamo anche matematicamente salvi. Obiettivi, eccolo qua, ci ho messo tre quarti d'ora a trovarlo. Allora, uno degli obiettivi più importanti in questo momento è di acquistare un giovane per la prima squadra entro due stagioni, ma una già l'abbiamo superata, e schierarlo in 10 partite dall'inizio a gara in corso, quindi in generale 10 presenze. Io non capisco cosa intendano per giovane, perché giovane è un po' generico, giovane che vuol dire, cioè, meno di 20 anni, meno di 22, meno di 24, anch'io a 30 anni mi sento giovane, ma insomma, un po' più precisi dovevano essere. Vi aggiornerò anche sui risvolti dell'osservatore quando andrà a vedere questi giovani, tra l'altro anche Giuara è abbastanza giovane perché ha 22 anni, quindi potrebbe essere considerato un giovane, non sappiamo quanto vale, ma potrebbe essere un'alternativa di mercato nel momento in cui viene ricercato e sappiamo tutti i dati di questo attaccante del Bologna. Intanto però buttiamoci nella prossima partita contro l'Empoli al San Nicola. Empoli che sta sotto di noi, partita in cui giochiamo in casa e siamo favoriti. La formazione di oggi credo che sarà quella titolare perché non abbiamo, diciamo, turni infrasettimanali per ore e quindi stiamo giocando tutte le partite con una settimana di pausa tra l'una e l'altra e quindi fondamentalmente siamo abbastanza riposati sempre. Il pupillo cangiano potrebbe essere un giocatore, ve lo dico, da mandare in prestito perché quest'anno ha trovato veramente poco spazio e adesso sto provando a far crescere Charles che ha un potenziale maggiore e inoltre è proprio un trequartista, cosa che invece cangiano non è, quindi giocava lì adattato. Per il resto ragazzi, formazione titolare, non facciamoci troppi problemi e via. Dallo stadio San Nicola, Bari, Empoli. Attenzione a Beautiful Man, palla in profondità per Chedira che si è allargato e ha tanto spazio per andare. Attenzione a Uolino Chedira, attenzione a Uolino Chedira, la palla dentro per Pionte. Cosa ha sbagliato il tiro? Mamma mia, mamma mia, cosa hanno sbagliato? Cosa sono riusciti a sbagliare i nostri giocatori d'attacco? Bella giocata, attenzione all'imbucata, attenzione a Dieng, Caprile esce. E qua abbiamo anche dei giocatori interessanti da tenere sott'occhio oggi, quelli dell'Empoli. L'Empoli veramente è una fucina di talenti infinita. Adesso De Sciu, il cross, debole, per Simone Verdi che si muove tra le linee. Adesso aspetta la sovrapposizione di Marco Salonzo. Marco Salonzo sul fondo, ancora per Verdi. Verdi palla dentro, per Pionte, che fa salire anche De Sciu. De Sciu può andare al tiro! L'improbabile De Sciu ed è 1-0 Bari. Azione perfetta da una parte all'altra. Con Verdi a fare da gestore della tre quarti, dei palloni sulla tre quarti. E poi, perfetto, Piontec con i tempi giusti per la sovrapposizione di Mattia De Sciu. Attacchiamo con i due terzini, con ottimo tempismo. E poi riesce anche a concludere bene e a battere Vicario, il nostro improbabile. Che a fine stagione probabilmente ci lascerà. Ma per ora ce lo godiamo. Beautiful Man per Piontec. Piontec vede l'imbucata perché Dira, forse in fuorigioco, forse no. Era regolare. E però l'ha sbagliato, Wallino. L'ha sbagliato di pochissimo. Questo glielo perdoniamo solo perché era molto pressato e non aveva il tempo di aggiustarsi la palla. Adesso purtroppo l'Empoli è dentro. È dentro la nostra area. Palla dentro. Attenzione allo schema Caprile. Col miracolo Caprile. Sempre, sempre presente. Poi rientra Stojanovic. Ancora Ferreira. Al cross. Attenzione a Baldanzi. Arriva il gol dell'Empoli. Arriva il gol dell'Empoli con uno dei suoi talenti più importanti. Baldanzi, il cross che è stato fatto passare con un velo in pratica da Dieng. Che ha mandato a voto tutti i nostri centrali. Sia Cistana che Pavlovich. Poi Baldanzi si è ritrovato solo soletto sul dischetto. Fa pure rima. E ha battuto facile Caprile che non poteva stavolta fare veramente nulla. Allora il 55esimo. Proprio uno dei giocatori di cui parlavamo di più. L'ha pareggiata. Il cross dentro. Attenzione al tiro che finisce fuori. Incredibile. Incredibile. Non ho visto che è stato a tirare ma veramente fuori di pochissimo. Pavlovich. Un passaggio incomprensibile il suo. Attenzione alla palla dentro. Attenzione al triangolo. Riesce a chiudere in qualche modo Cistana. Schadler. La sponda. Palla in profondità per Piontek. Piontek prova ad andare fino in fondo. Attenzione a Piontek. Piontek! Con il contropiede. All'ottantatresimo. Quando segna Piontek è sempre una liberazione. Visto che non sta facendo una grande stagione quest'anno. Poi andremo chiaramente a vedere i suoi numeri a fine stagione. Però. A prescindere da golle assist. Non è stato determinante come mi aspettavo. Insomma. Sulla carta dovrebbe essere il nostro attaccante più forte. E in realtà probabilmente è stato quello più scarso. Dopo il vichingo che ha giocato con noi solo mezza stagione. E che è stato un buco nell'acqua purtroppo. Anche se poi ne riparleremo del vichingo. Perché rimane comunque un mio pallino. L'avrei voluto far crescere con noi a livello tecnico. E provare a fare qualcosa in più col suo talento. Pavlovic ancora per Marco Salonzo. Adesso c'è spazio per andare in contropiede per il Bari. In questo caso lo spazio è per Schadler. In posizione regolare. Schadler. Schadler fino in fondo. Arriva pure il gol del talismano all'ultimo minuto. Per chiuderla. Tra l'altro in stile Pippo Inzaghi nel 2006 con Barone. C'era un altro giocatore al quale potevamo passare la palla. Tutto solo l'avrebbe potuta appoggiare a porta vuota. Rivediamolo. Che non so chi era. Era Piontek. Guardate. E invece lui dritto per dritto. Rischiando pure di sbagliare col mancino. Fa palo gol. Ma Schadler difficilmente può sbagliare ragazzi. Perché ha questa specie di calamita per il gol. Finisce 3-1. Una partita in cui abbiamo seriamente rischiato a un certo punto di farcela sfuggire tra le mani. Però alla fine sotto la pioggia del San Nicola. Riusciamo a portarla a casa. Allora ragazzi siamo al ridosso della partita contro la Juventus. Andiamo a vedere la classifica. Prima che giochino magari qualche anticipo. E tra l'altro sono passate due settimane dalla scorsa partita. Quindi non so perché. Stiamo giocando in pratica una partita ogni due settimane. Quindi abbiamo tutti i giocatori riposati. Vediamo che la Juventus sta lottando per il titolo. Quindi noi siamo un po' in mezzo a questa lotta per il titolo. In cui abbiamo fatto perdere punti all'Inter. Quindi ci odia l'Inter effettivamente in questo momento. Che probabilmente se lo meriterebbe. Visto il campionato che ha fatto è sempre stato in testa. L'Ellas Verona ancora quarto. Noi siamo in questo momento a meno 8. A meno 8 con 8 partite da giocare. Se riuscissimo a guadagnare di media un punto barra uno e mezzo a partita. Potremmo recuperare sull'Atalanta. Che in questo momento si trova al sesto posto. Insomma siamo siamo in una volata finale. In questo momento in cui siamo in una situazione tranquilla. La mia tentazione sarebbe quella di far giocare i giovani. Per farli crescere in quest'ultima parte di stagione. In cui non stiamo lottando per nulla. Però vi dico la verità. Io ancora un po' ci credo. Io ancora un po' ci credo. E quindi per questo faccio giocare sempre gli stessi. Sempre i titolari. Perché un po' ci voglio credere a riuscire a fare questo miracolo con il nostro Bari. Quindi per ora finché matematicamente non siamo condannati all'inutilità di metà classifica. Continuiamo a far giocare i titolari. Insomma la partita contro la Juventus determina un po' le nostre aspettative. O meglio i nostri risultati di questa stagione. Una sconfitta potrebbe definitivamente relegarci all'inutilità della metà classifica. Il gladiatore per Rone. Palla dentro per Piontek. Piontek può andare! Pum! 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 Christophe Piontek al terzo minuto. Porta in vantaggio il Bari. Incredibile ragazzi. È arrivato Piontek. Si è svegliato Piontek. Portiere della Juventus sembra essere Bonu del ex Sivilla. Almeno dalla faccia. Poi magari è qualcun altro. Ma insomma l'importante è che Piontek ha tirato una stecca clamorosa con la Juventus. La sua difesa che si è aperta totalmente. E questo ci porta in vantaggio allo stadium. Al quarto minuto. Vantaggio Bari. Calma. Ci vuole calma. Ti chiesa. Adesso prova a intervenire Cistana ma la palla rimane lì. E non si riesce... Non si riesce a mettere fuori. Non si riesce a mettere fuori il tiro! Il tiro dal limite dell'area. Col destro. Di Grimaldo. Finisce fuori di poco. Rovella. Niccolò Rovella sbaglia il passaggio. Poi la recupera la Juventus. Attenzione allora. Pericolo. Pericolo. Arriva il gol di Marco Verratti con un'imbucata clamorosa. Imbucata clamorosa. Peccato per quella palla persa al limite. Da Beautiful Man. Però poi l'imbucata è stata clamorosa. Non so chi l'abbia fatta. Quest'imbucata Tony Cross. Tony Cross. E chi se no. Proprio uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. È uno dei più vincenti della storia del calcio. Adesso palla in profondità. Questa è buona. Anche se Militao è molto veloce. Uolino Chedira riesce però ad anticiparlo. Poi cosa fa Uolino? Cosa fa? Cosa fa Uolino Chedira? Perché ho tirato a giro? Perché ho tirato a giro? Sempre lo stesso errore. Sempre lo stesso errore. Proprio in extremis. È ancora Pavlovich. Che poi perde una brutta palla. Attenzione al tiro. Caprile cosa ha parato? Caprile cosa ha parato? Con la manona di richiamo. Siamo proprio al limite di questo primo tempo. Sul finire. Dobbiamo cercare di andare negli spogliatoi in parità. E allora mette fuori Verdi. Senza Fronzoli. Finisce 1-1 il primo tempo. Ce la stiamo giocando bene. Abbiamo avuto anche un'ottima occasione con Chedira in contropiede. E loro hanno trovato un gol con una grandissima invenzione. Di uno dei loro giocatori migliori. Ovvero Toni Kroos. Bell'uomo. Attenzione a Piontek. Fallaccio su Piontek. Fallaccio su Piontek. Che rimane a terra. Un fallaccio inutile. Infatti è molto seccato. Christophe Piontek. E il cartellino è rosso. Per Grimaldo. Che se ne va giustamente sotto la doccia. Infatti avevo intuito che fosse rosso. Perché l'arbitro non ha fatto continuare l'azione. O se è stato giallo avrebbe potuto farlo. E corre ai ripari. Quindi la Juventus facendo entrare Kostic al posto di Kuluseski. Un cambio più difensivo. Chiaramente forse Kostic andrà a fare proprio lui il terzino. A creare un'azione. Adesso però arrivano i rinforzi. Vincola anche un rimpallo. Allora Vlaovic. Il gol. Il gol di Vlaovic. Con il destro a giro sotto l'incrocio. Anche in 10 la Juve è in vantaggio. Purtroppo il problema è che quando perdi. Qua abbiamo perso questo rimpallo. Quando perdi un rimpallo. In quella zona di campo. Riorganizzare una difesa. Con un uomo che in pratica ormai non c'è più. Che in questo caso era Cistana. Diventa quasi quasi impossibile. Poi vabbè Vlaovic la mette lì. Attenzione a Verdi. Al limite dell'area. Verdi. Palla per Samarzic. Samarzic. La parada di Bonu. Avevamo trovato spazio. Per il sinistro di Samarzic. Adesso c'è il gradiatore per Rone. Samarzic. Tanto spazio per andare al tiro ancora Bonu. Non si riesce a segnare. Mannaggia Samarzic. Samarzic. Mannaggia lui. Palla dentro per Vlaovic. Che può chiuderla. Il tiro diventa un croc... Vabbè ragazzi ma a che gol? Allora a che gol abbiamo assistito? A che gol abbiamo... Vabbè la partita era finita. Quindi la Juventus comunque avrebbe vinto con merito. Perché è molto più forte di noi. Ora per vincere in 10 è molto più forte di noi. Anche se ce la siamo battuta alla pari. Dispiace. Ma che gol è? Vlaovic svirgola totalmente il tiro. Finisce sui piedi di... Non so se fosse chiesa a questo punto. Che fa un contro cross in semi rovesciata per Vlaovic. Già detta così. Già detta così. Spiega tanto. Va bene. Ragazzi. 3-1 Juventus. Che vince meritatamente anche in 10. Contro un Bari che... Ha un po' buttato questa partita. Però ha fatto il massimo sicuramente. Ce la siamo giocata alla pari anche in 11 contro... Anzi. Probabilmente ce la siamo giocata meglio. In 11 contro 11. Che in 11 contro 10. Perché poi è subentrato un po' quella... Quasi quell'obbligo di dover vincere. Allora ragazzi. Prima di andare a guardare la classifica e salutarci. Andiamo a vedere quelli che sono... Alcuni giovani che ho seguito. Un paio. In realtà è anche Musa. Juvera. Per quanto riguarda Musa Juvera abbiamo 3 milioni e 8. Lui è un 72. Scarsissimo. Oddio scarsissimo. In realtà considerando che... Credo che Kedira sia 72. Shadler 70. E Piontek 76. Piontek se ne andrà perché è in prestito. Quindi Musa Juvera potrebbe essere... Un buon bagato per noi. Perché comunque un 87 di scatto... Non è male. Anche perché 3 milioni e 8. Si potrebbe provare a prendere. Tra l'altro è scontento. È scontento al Bologna. Quindi è mancino. Ci potrebbe fare comodo. Ormai diciamo che Udinese, Torino e Sassuolo hanno un po' mollato. Si stanno facendo la guerra tra loro. Ma noi abbiamo preso un buon vantaggio. Mentre invece rimaniamo a meno 11. Prima eravamo a meno 8. Quindi perdiamo 3 punti sull'Atalanta. Che è la prima alla quale possiamo ambire per entrare in Europa. Credo che questa sia stata la botta finale al nostro campionato e alla nostra rincorsa all'Europa. Sinceramente. Perché più 11 adesso con 7 giornate da giocare direi proprio che diventa difficile. Andiamo a vedere quelle che saranno le prossime due partite. Ovvero quella contro il Verona fuori casa e contro il Sassuolo in casa. Poi avremo Lecce, Sampdoria, Genua, Napoli e Fiorentina. Il nostro campionato da qua alla fine il nostro calendario non è proibitivo. Ma il problema è che comunque gli altri devono anche perdere punti. Se no è tutto inutile. Quindi ragazzi io vi invito come sempre a farmi sapere in un commento cosa ne pensate. Se dovremmo investire adesso nella crescita dei giovani in questo finale di campionato. O se per esempio potremmo simulare il finale di campionato. Io aspetto magari qualche consiglio da parte vostra. Magari simularlo per velocizzare questa parte un po' inutile da qua alla fine. In cui al 99,9% non entreremmo mai in Europa. E buttarci invece subito nella prossima stagione. Fatemelo sapere perché è un'idea che in questo momento effettivamente mi va. Per non fare degli episodi filler, semplicemente riempitivi. Che però non ci lasciano quasi nulla. Quindi mi raccomando lasciate un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per supportare questa serie e tutti i miei contenuti e il mio lavoro. Mi raccomando. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi. Ciao.